vaiolo delle scimmie quinto caso nelle marche meloni ad ancona presenta i candidati di fratelli d'italia marche tabuglia pista ciclabile tra buche e avvallamenti mercato ittico a fano addio alle cassette in polistirolo spiagge pesaresi il bilancio di fine estate dei bagnini buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 24 agosto apriamo questa edizione parlando del quinto caso di positività al vaiolo delle scimmie che si è registrato nella nostra regione marche come annunciato dal virologo stefano menzo l'uomo è un italiano sulla quarantina residente a senigallia l'analisi molecolare del liquido delle vescicole della persona che ha contratto il virus monkeypox è stata eseguita dal laboratorio di virologia dell'ospedale regionale di torrette del quale menzo è direttore il vaiolo delle scimmie conta attualmente in italia già più di 700 casi e nella giornata di ieri ha ammietuto la prima vittima italiana ed ora passiamo alla politica nella giornata di ieri le marche sono state la prima tappa di campagna elettorale non solo per Matteo Salvini e per la Lega ma anche per Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia ad Ancona per l'occasione sono stati presentati i nomi dei candidati regionali di partito per le prossime elezioni politiche vediamo il servizio oltre a Matteo Salvini e al suo partito anche Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia ha deciso ieri di iniziare la sua campagna elettorale nella regione Marche più di 3000 persone ieri in piazza Roma ad Ancona ad assistere alla presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia Marche alle prossime elezioni politiche nelle liste uninominali e proporzionali di Camera e Senato è stata una manifestazione bellissima sono stati trattati un po' tutti i temi nazionali legati alla sicurezza all'immigrazione, al realizzare cittadinanza e alle nuove prospettive che questo nuovo governo dovrà affrontare in un periodo veramente difficile legato all'inflazione, legato a tutto ciò che concerne la questione energetica e tutte le problematiche della popolazione Tantissimo pubblico, tanta gente, tanti giovani, tante persone che hanno voglia di cambiamento che hanno voglia di portare finalmente questa nazione ad un governo differente rispetto a quelli che ci hanno preceduto in questi anni quindi tanto entusiasmo, tanta voglia di partire, i candidati sono pronti faremo tutti il massimo per cercare di far vincere la coalizione di centrodestra e nel caso specifico del sottoscritto Chiuse le liste per i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato sono nuovi i nomi dei candidati regionali alle prossime politiche All'unominale del collegio di Ancona della Camera, Stefano Benutigostri, un avvocato, una persona molto preparata al collegio invece del Senato di Macerata, Ascoli e Fermo, la nostra coordinatrice regionale Elena Leonardi Capolista alla Camera dei Deputati, l'onorevole Lucia Albano e al Senato, io parlo del capolista, chiaramente Guido Castelli che è il nostro assessore di bilancio che ha fatto benissimo in Regione e ci sono poi tanti altri nomi di colleghi alcuni consiglieri che hanno contribuito e contribuiscono al lavoro nei territori consiglieri comunali o anche altre persone che stanno lavorando tantissimo nella Regione Marche per dare un contributo importante a questa vittoria Come espresso ieri da Salvini che i partiti di centrodestra saranno secondo lui più votati dalla classe operaia in contrapposizione anche con la storia politica del nostro paese il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi è dello stesso avviso sottolineando gli errori commessi dal centrosinistra in questi anni Ha perso completamente il polso della situazione, le esigenze del popolo e quindi di conseguenza anche di tutta la classe operaia, dei lavoratori e di tutto il mondo che produce quindi è una valutazione sicuramente corretta e ci auguriamo veramente che il centrodestra e i Fratelli d'Italia riescano assolutamente a intercettare anche il voto di tanti scontenti che vengono dati dal mondo produttivo sia dalla parte imprenditoriale che dalla parte dei lavoratori Continuiamo a parlare ancora di politica visto che domani i candidati alle prossime elezioni di più Europa saranno a Pesaro presso la sala del consiglio comunale in piazza del popolo Saranno presenti infatti i candidati Giordano Masini, Marco Bentivogli, Mattia Morbidoni, Diletta Doffo e Alessandro Cirelli Ed ora cambiamo argomento e andiamo a parlare delle vostre segnalazioni in questo caso oggi andiamo a vedere il comune di Tavuglia dove in questi giorni hanno fatto il giro dei social delle foto riguardanti proprio le cattive condizioni della pista ciclopedonale di Padiglione i dettagli in questo prossimo servizio Foto, condivisioni e tante lamentele Sui gruppi social stanno impazzando in questi giorni diverse immagini che riguardano lo stato in cui versa la pista ciclopedonale che collega Padiglione, frazione di Tavuglia a via Re dei Gatti di Montecchio, frazione di Vallefoglia A causa delle grosse piogge dei giorni scorsi lo strato di asfalto presente lungo il camminamento ha ceduto in più punti generando buche e dune pericolose per tutti i frequentatori della pista Facciamo però prima un passo indietro Da circa 5 mesi questo tratto di strada ciclopedonale è soggetto a lavori di rifacimento e ampliamento delle fognature da parte di Marche Multiservizi, che ha appaltato i lavori affidandoli ad una ditta Una volta completati gli scavi e la sistemazione delle tubature il pezzo di strada interessato è stato ricoperto da una colata di bitume provvisoria in attesa di un assestamento del terreno Asfalto che poteva essere risparmiato se non fosse che la stagione estiva e soprattutto quel tratto di pista ciclopedonale vede ogni giorno tanti frequentatori e proprio per questo è stato deciso di agire diversamente a favore dei cittadini Avremmo potuto decidere insieme a Marche Multiservizi di chiudere il tratto ma siccome siamo durante dei periodi estivi stiamo vivendo appunto dei mesi belli di sole abbiamo ritenuto opportuno lasciare comunque spazio e possibilità alle persone di passare lungo la pista ciclabile nonostante i lavori chiaramente facendo attenzione perché altrimenti sarebbe stato chiuso il tratto fino a fine lavori Il comune di Tavuglia si è allacciato ai lavori effettuati da Marche Multiservizi per portare a termine due interventi che da tempo aveva in programma Per noi questi lavori sono importanti anche per altri motivi uno perché chiaramente sarà poi Marche Multiservizi che si farà carico di rifare il manto stradale che abbiamo tutti gli occhi, lo sappiamo, era abbastanza usurato e finito quindi saremmo comunque dovuti intervenire noi come comune perciò ecco questo è un punto a nostro favore e la seconda cosa, la più importante, è che grazie a questi lavori di fognatura di Marche Multiservizi noi abbiamo potuto allacciare un altro lavoro importante che era già, mi sembra, stanziato dal 2020 quindi è già un progetto fatto quello di porre l'illuminazione pubblica lungo questa strada è un lavoro che viene richiesto ormai da, non dico secoli ma da tanti anni, da tante persone perché effettivamente questo tratto di strada di notte è pericoloso e buio chi allora aveva fatto il progetto di questa pista ciclabile non ha tenuto conto del fatto che poteva necessitare di un impianto di illuminazione per cui non sono stati fatti delle giuste tubazioni sotto quindi cosa abbiamo deciso di fare? il nostro progetto inizialmente era quello di porre dei punti di illuminazione utilizzando una via aerea quindi mettendo quei famosi fili a penzoloni che chiaramente non sono belli ma sicuramente facevano risparmiare per il prossimo anno sicuramente per la stagione estiva ci sarà tempistiche che sicuramente si sono allungate rispetto a quelle previste inizialmente proprio perché in questi giorni a causa delle grosse bombe d'acqua il terreno che ancora non si era assestato ha ceduto creando grosse voragini e crepe per circa 500 metri della pista ciclopedonale i nostri tecnici insieme ai tecnici di Marche Multiservizi e la ditta sono intervenuti, hanno valutato quelli che sono i danni chiaramente già da domattina cominceranno a risistemare il tratto ora credo che i tecnici facciano i tecnici e non gli amministratori quindi non compete a me dire come sarà l'intervento e cosa verrà fatto l'importante è che il lavoro venga fatto bene come deve essere fatto e chiaramente che non sia di pericolo per le persone il vice sindaco di Tavuglia dopo aver fatto chiarezza sulle condizioni del manto stradale ha voluto anche precisare le difficoltà che quotidianamente si trova ad affrontare è veramente fastidioso, antipatico e a volte anche a limite passibile di denuncia quando leggi cattiveri e inutili soprattutto persone che non sanno come realmente funzionano le cose, non sanno quali sono le competenze per esempio leggo uno da contro il sindaco di Vallefoglia piuttosto che il sindaco di Tavuglia piuttosto che Marche Multiservizi solo per la voglia di dare le colpi a qualcuno cioè qui ognuno di noi ha un ruolo quindi quando ci sono queste pericolosità invece di fare la foto e pubblicarla sui vari social che girano adesso come se fossero la manna dal cielo l'unica cosa che funziona, chiamate gli enti competenti, i carabinieri, i vigili, il comune anche noi rispondiamo sempre in comune ci sono vari uffici che rispondono secondo le loro competenze Ed ora passiamo alla cronaca ieri intorno alle 13 un 36enne emiliano in vacanza a Gabic è stato avvolto dalle fiamme mentre svolgeva alcuni lavori domestici incidente che è stato causato dall'esplosione di una bottiglietta di alcol quest'ultima usata per bruciare le formiche che si stavano infiltrando in casa sua diverse le ustioni riportate dall'uomo in varie parti del corpo e dopo l'immediato intervento dei sanitari il 36enne è stato trasportato d'urgenza in elieambulanza al reparto ospedaliero Grandi Ustioni di Parma dagli ultimi aggiornamenti le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi L'estate sta quasi per finire e allora adesso in questo prossimo servizio vediamo un bilancio dei bagnini pesaresi per quanto riguarda la stagione Siamo giunti a fine agosto ultimi giorni di ferie per la gran parte degli italiani che da lunedì torneranno alla routine di tutti i giorni e al loro lavoro questo periodo coincide anche con la fine dell'estate e dunque con gli ultimi giorni passati sulle spiagge spiagge che in questi 4 mesi di calda stagione hanno visto popolarsi di tanti bagnanti e proprio per questo siamo andati a raccogliere un bilancio quasi finale di alcuni gestori del litorale pesarese Chiaramente quest'anno il meteo ci ha aiutato tanto perché maggio, giugno, luglio con delle temperature altissime e quindi per noi, per il mare, per tutta la situazione balneare è ottimale però abbiamo avuto molto turismo locale, quindi pesaro, introterra, eccetera e anche italiano, nel senso delle varie regioni d'Italia secondo me abbiamo riscosso un buon successo Sul discorso invece delle stranieri, Germania, Francia che di solito hanno una buona frequenza nei mesi di giugno e luglio quest'anno è stata molto più bassa però comunque possiamo dire che è stata un'ottima stagione un ottimo 2022 per noi qua al mare anche sul discorso serale perché comunque qua c'è un clima ottimale di sera quando magari nel centro città e in casa si soffre un po' il caldo qua non c'è bisogno di condizionatore e si sta da dio Diciamo che la stagione è sicuramente positiva soprattutto per il tempo magari la gente, non dico che non c'era c'era ma magari stavano attenti più a spendere però essendo tutte giornate di sole è tempo buono quindi nel lungo abbiamo sopperito a qualche mancanza di incasso nel senso che qualcuno stava più ecco come dico per gli aumenti che ci sono in giro la gente è un po' più parsimoniosa e quindi sicuramente è una stagione positiva non ci possiamo lamentare perché se no hanno ragione a dire che i bagnini e i albergatori sono solo piangere Che turismo avete voi? Più locale oppure più straniero? Noi lavoriamo al 90% con il turismo locale poi il passaggio è poca roba però vedo anche quelli che lavorano col passaggio insomma hanno lavorato discretamente bene quindi sicuramente positiva E poi tanti mesi di stagione che è durata più del previsto Esatto da maggio ha cominciato il tempo buono siamo a fine agosto ancora buono quindi penso che forse si potrà prolungare anche a settembre quindi diciamo che anzi speriamo non troppo perché qui siamo tutti stufi quelli gli operatori perché essendoci giorni di pioggia non hai mai il tempo per recuperare Nella posizione in cui siamo noi viviamo più che altro di turismo locale del posto però onestamente bisogna dire che c'è anche qualche turista che non è proprio del posto che viene da fuori abbastanza bene diciamo da quel lato del turismo anche perché il tempo è stato favorevole quindi è innegabile però giugno per noi bello brutto cambia poco avendo tutte le cose locali la gente lavora viene solo il fine settimana Per un'estate che è stata più lunga delle altre visto che è iniziata aprile e maggio fino poi a settembre Speriamo che duri oltre L'estate sicuramente è stata lunga e calda siamo partiti aperto a Pasqua abbiamo aperto poi da mazzo le temperature sono sempre state quei 4-5 gradi sopra la media quindi non ci possiamo lamentare di niente speriamo nei prossimi giorni fino a settembre di avere qualche giornata di sole ancora per sfruttare il lettino e l'ombrellone il più possibile Una stagione mai vista una stagione lunghissima e quindi è stata anche molto molto impegnativa Sì molto impegnativa non ci ho mai lasciato una mezza giornata libera c'era il personale che quasi supplicava un po' di pioggia come noi stessi titolari quindi è andata bene così fortunatamente abbiamo lavorato lavoriamo 5-6 mesi all'anno ma puntiamo a fare il più possibile quindi è bene così che se ne fossero delle altre nel futuro Ed ora ci spostiamo a Fanno perché per il trasporto del pesce non si utilizzeranno più le cassette in polistirolo che sono inquinanti e pericolose per l'ambiente è denominato Sì in box il progetto presentato dal comune di Fano insieme al consorzio ittico fanese il circolo legambiente Fano e la confesercenti Pesaro Urbino per contrastare l'inquinamento marino le cassette in polistirolo saranno sostituite da 2.500 box in plastica riutilizzabili grazie anche all'acquisto di un macchinario che sanifica le stesse casette permettendone il riutilizzo Pesaro Parcheggi ha reso nota l'apertura alle candidature per poter ricoprire il ruolo di addetto alla verifica e controllo delle aree di sosta e anche per il ruolo di addetto amministrativo contabile per un part time di 32 ore chi fosse interessato può inviare la propria candidatura entro le 12 di venerdì 2 settembre andando direttamente presso agli uffici di Pesaro Parcheggi oppure inviando una PEC a pesaro parcheggi chiocciola legalmail.it musica, eleganza acrobatica è una sola anima in uno spettacolo incantevole ed emozionante questo recita la locandina dell'evento music body and soul in programma in piazza l'Uceoli di Cantiano giovedì domani 25 agosto alle ore 21.30 per domani sempre per domani appunto 25 agosto a Pesaro in piazzale della Libertà è in programma la rassegna i giovedì delle stelle organizzato in collaborazione tra il comune di Pesaro e APA Hotels a fianco della Pala di Pomodoro si svolgerà un concerto con la pianista internazionale Miwa Oiano e la cantante soprano Tomomi Asanuama è andata in scena ieri al Teatro Rossini la serata inaugurale del festival Il Bel Canto ritrovato con l'opera Cecchina Sognatrice di Ghironda la farsa di Pietro Generali un festival che proseguirà nei prossimi giorni con altri appuntamenti in calendario fino al prossimo 10 settembre con lo scopo di riscoprire i compositori dimenticati dell'Ottocento Una cena spettacolo nel nome di Gris e della compianta Olivia Newton-John è quella andata in scena lunedì sera al ristorante ideale in piazza 20 Settembre a Fano le persone al tavolo sono state coinvolte nello show durante questa prima tappa del progetto Music Hall e allora vediamo il servizio di Simone Celli Ma che macchina del tempo per fare un salto nel passato bastano un locale in piazza e un gruppo di artisti di talento ne ha dato prova il ristorante ideale Food & More di piazza 20 Settembre a Fano grazie a una cena spettacolo che lunedì sera ha portato i commensali direttamente negli anni 50 di Gris Ciuffi ribelli e brillantina giubbotti di pelle e gonne a ruota hanno caratterizzato il primo capitolo del progetto Music Hall una serata pensata da Stefano Mirisola e resa possibile dall'associazione Happy Days un musical un plein air che ha intrattenuto e coinvolto le persone sedute a tavola Music Hall questa idea di fare una cena spettacolo diversa dal solito praticamente i veri protagonisti dello show saranno proprio i commensali che saranno partecipi di queste coreografie di queste recite fatte dalla compagnia Happy Days sotto la regia di Marco Florio che animeranno questa serata in maniera elettrizzante Sì un tuffo nel passato è un musical che hanno già acquisito i ragazzi dell'associazione perché circa 13 anni fa lo hanno messo in scena al Teatro Politeama quindi è un ripescare Gris serviva hanno fatto una richiesta di un musical fresco per fine estate e mi è venuto in mente Gris l'iniziativa ha avuto successo tanto che un imprenditore di un comune limitrofo ha già contattato Mirisola con l'intenzione di replicarla gran parte del merito è dei circa 15 attori e attrici tra i 18 e 45 anni che hanno preso parte allo spettacolo insieme al corpo di ballo della scuola Dance Academy Studio e ai B-Boys in Action fare la regia di questo spettacolo è stato molto piacevole abbastanza semplice grazie alla collaborazione di Caterina Maggini e Chiara Furlani la coreografa che è riuscita a far ballare ragazzi che non sono ballerini e che spesso molti di loro per la prima volta si trovano qui a recitare a ballare e a divertirsi tutti quanti insieme abbiamo lavorato per un mese e mezzo quindi in tempi molto molto stretti velocemente facendo 3, 4, 5 prove alla settimana per arrivare qui e fare questo evento straordinario organizzato dal ristorante L'Ideale una serata all'insegna della spensieratezza dunque ma anche un omaggio alla grande protagonista di Grease Olivia Newton-John scomparsa lo scorso 8 agosto certamente il musical di questa sera sarà un omaggio all'immensa Olivia quindi approfitteremo anche per fare un tributo all'attrice di Grease per eccellenza ci ha lasciato pochi giorni fa e sarà qui insieme a noi a fare questo bellissimo evento questo bellissimo spettacolo ne è uscita una festa travolgente fatta di sentimenti coreografie e canzoni che hanno fatto la storia ma anche di buon cibo tra le collaborazioni oltre il patrocino del comune di Fano perché comunque cerchiamo di ravvivare anche la piazza perché è uno spettacolo che ha la possibilità di essere visto da tutti praticamente si autofinanzia con il prezzo della cena abbiamo degli sponsor importanti come Polo Ristorazione ma soprattutto la cena verrà preparata dall'associazione professionale cuochi italiani dall'Apci dallo chef Antonio Bedini e dal suo staff che utilizzeranno per l'occasione la cucina del ristorante ideale per preparare dei piatti sfiziosi ovviamente l'amministrazione lo sostiene perché creare questi momenti di accoglienza nella città sia che arrivino di associazioni sia che arrivino di attività con le quali collaboriamo costantemente è per noi importante perché significa dinamicità vitalità ad una città come Fano chiudiamo chiudiamo questa edizione parlando di calcio con la Vispesaro e con il suo allenatore che ha raccontato ai nostri microfoni le prime impressioni dopo un mese dall'inizio della preparazione in casa Vispesaro dopo un mese di preparazione si inizia a sentire l'odore del debutto in campionato fissato per il prossimo 4 settembre anche se per l'ufficialità del calendario si dovrà aspettare fino al 26 di agosto un mese di allenamenti e duro lavoro in cui mister Sassarini sta provando a trasferire i suoi concetti di gioco alla sua nuova squadra abbiamo secondo me costruito fondamenta importanti è chiaro che abbiamo ancora il tetto scoperto come normale che sia che quindi possa più averci dentro ma nel percorso lo andremo a chiudere e sono soddisfatto siamo in un momento chiaramente di molto molto basso perché ci manca brillantezza ci manca lucidità ci manca collegamenti siamo ancora lunghi e larghi ma insomma se si vuol costruire qualcosa di duraturo queste sono le fondamenta necessarie da costruire dopo le amichevoli concluse con due sconfitte contro Sassuolo e Gubbio domenica 28 agosto alle 17 la Visse farà visita allo stadio adriatico di Pescara per una delle ultime amichevoli in programma in vista della prima di campionato le prime amichevoli magari eravamo più brillanti e quindi sono venuti anche più gol più situazioni ora siamo ribadisco un pochino più più compassati e quindi anche meno brillanti e quindi attacchiamo con meno giocatori di quanto dovremmo attaccare credo che sia senza il credo assolutamente normale questa situazione a causa dell'esclusione dal prossimo campionato di Lega Pro e dell'imminente ricorso presentato dalle dirette interessate Campobasso e Teramo la prima giornata di Serie C è stata slittata di sette giorni un cambio di programma che permetterà a Mister Sassarini di lavorare ancora di più con i suoi giocatori Sì una settimana ti dà tempo e modo di migliorare soprattutto di recuperare gli infortunati perché non dimentichiamoci che in tutte le partite abbiamo abbiamo giocato con con 3-4 giocatori in meno vedi vedi un offensivo vedi Di Paola vedi Sanogo e vedi Auccelli che per noi sono importanti ma non tanto nella partita amichevole che non conta quanto nella crescita globale dell'idea Crescita è anche la parola chiave del percorso che hanno intrapreso gli undervis Pesaro che in questa primissima parte della nuova stagione stanno dando buone impressioni all'allenatore sappiamo perfettamente qual è l'intendimento della società e che quindi secondo me abbiamo dei giovani di di ottimo valore è chiaro che ci sono dei giocatori molto più avanti altri molto più indietro e che quindi però secondo me i giovani su cui vogliamo puntare sono 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 molto avanti sono di qualità Entrate e uscite dal mercato Mister Sassarini ha fatto anche chiarezza su ciò che manca Io credo che la vis attualmente manca dei giocatori che non sono a posto e di conseguenza poi i giocatori che partiranno la vis acquisterà ad ogni giocatore che manca ne arriverà uno questo è quello che manca la vis ma la vis adesso è completa quello che manca è se dovesse partire qualche giocatore ne arriverà di conseguenza altri E chiaramente vi ricordiamo che tra pochissimo alle 20 e 30 noi di Rossini TV trasmetteremo in diretta dalla World of Fame di Los Angeles la posa della stella in onore di Luciano Pavarotti un evento che potrete seguire in diretta appunto sul canale 80 ma anche sulla nostra pagina Facebook E proprio per questo evento la nostra seconda edizione del nostro telegiornale andrà in onda alle ore 21 e 30 quindi se vi perderete insomma l'edizione delle 19 e 40 potete vedere il nostro telegiornale alle 21 e 30 mentre noi ci rivediamo domani mattina con il nostro appuntamento della rassegna stampa vi aspetto alle 7 e 20 in diretta sul canale 80 oppure sulla nostra pagina Facebook grazie per essere stati con noi anche questa sera buon proseguimento di serata grazie a tutti